Il giro a destra, numero 2, attenzione, 2 e 3, vuole che nel momento della chiusura il mio braccio sinistro supera la mia testa, testa mia è qua e il braccio è là, parlano di capriere. Il 4, 5 e 6, il braccio sinistro rimane giù e ho la parte della mia testa, sia mia che della dama, scoperta e visibile al giudice, lui è il giudice di oggi, grande carine, oggi è ufficiale in casa. Io sono con la mia dama, con Patrizia, adesso carine che ci deve giudicare, noi balliamo la destra verso lì e ci fermiamo quando facciamo la chiusura. Ok, carine in questo momento deve vedere, lo vedi il braccio su? Perfetto. Se carine avesse visto questo, non ci avrebbe potuto giudicare bene. Ora, il giudice di sempre carine, quando io guardo il 4, 5 e 6, ci deve vedere scoperti, ci vedi, vedi il quadro? La vedi quest'aria? In questo modo, in questo modo lo potete. E' chiaro anche la stazione, quindi, bene. Questo è molto importante. Dov'è che andiamo a affidare queste inclinazioni? Abbiamo detto, il giro a destra, completo, e poi c'è una figura importantissima, chiamata figura chiave, di tutti i balli. Qual è, secondo voi, una figura, o per meglio dire, una posizione? In tutti i balli c'è, è una posizione, si falla, si falla e si esce in... Promenade. Wow. Promenade. La promenade del balli di swing, cosa ci dice? Innanzitutto, è sempre un numero 2. Allora io, per esempio, vado a fare un impetus. Conoscete l'impetus? Bene. Dal giro a destra, vado a fare impetus. Promenade. Ripeto. Impetus. Promenade. Questo è quello là. Corretto. Attenzione. Impetus. Promenade. 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 Questo. Se prendo una dama, prendo Pina, facciamo la promenade, usciamo verso Simeone, corretto, ci vedi? Simeone? Ok, questa è la promenade. Questo non va bene. Come possiamo dare, quale termine possiamo associare a questa promenade? Che cosa dici? Un tuffo. Allora ogni volta che io faccio le promenade, con la mia dama, gli devo tuffare. E la testa è certa? La testa guarda dritto, il corpo che è, si inclina. Allora cosa fai? Promenade, wing, promenade, wing, giro a testa. Tarno, prove, chasse, impetus di nuovo. Grazie. 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 Grazie.